Ed è qui con me Stefano Ferrara, poker manager di Domus Bet e anche giocatore. Come sta andando questo Day 1B? Molto bene, molto bene, sono appena arrivato, ho giocato qualche mano, ambiente bellissimo, il people poker, tanti amici, ci siamo, ci siamo. Non è la prima volta che vieni a campione? No, no, fortunatamente non è la prima volta, sono a regola del circuito ormai da anni, adesso c'è questa nuova avventura con Domus Bet, speriamo di portare grandi risultati. Ma quando è che hai capito di dover giocare a poker? Inizialmente guardavo tanti video di ragazzi giovani che giocavano, io ero coetaneo, dicevo perché no, proviamoci, con la passione, poi sono arrivati i risultati e fortunatamente la passione è diventata una professione. Svegliamo un po' di segreti, che tipo di giocatore ti definisci? Ma principalmente sono un giocatore online, quindi sono partito 5-6 anni fa a giocare, principalmente ho giocato sempre online, i risultati migliori li ho avuti lì, dal vivo mi difendo, più che altro lo prendo anche per utilizzare la mia immagine del poker e fare qualche vacanza. Ok, e una cosa divertente, ricordati che alla fine di ogni intervista si dice sempre? La prossima volta non sarai impreparato, c'è il pipit tour per te. C'è il pipit tour per te. Grazie in bocca al lungo. Ciao Grevi, grazie.